Il motivo di questa manifestazione è che se forse lavora. Ma il motivo prima di tutto ripeto che sono sempre indignato che si arrivi a far scendere i disabili in piazza e questa è la cosa, la cosa che ci tengo a dire è che purtroppo oggi è un momento di campagna elettorale e la politica, oggi scendere in politica, chi veramente vuole fare politica ha bisogno di coraggio e chi veramente vuole fare politica però chi ha coraggio e qualcuno c'è ancora deve prendersi l'impegno che in regione Campania si inizia a parlare seriamente dei problemi dei disabili, io ricordo una cosa alla politica attenzione, perdonatemi, i disabili sono tantissimi con le famiglie, penso che vi ho detto tutto perciò cominciamo a parlare dei disabili in un modo serio, detto questo la manifestazione di oggi è vergognosa perché loro sapevano da tempo che noi vogliamo una semplice risposta qual è le aziende e gli enti formativi che devono partire per questi corsi, visto che queste borse lavoro, work experience come le vogliono chiamare, sono i soldi dei disabili precisiamo, c'è il fondo nazionale dei disabili che l'anno scorso è stato di circa 50 milioni euro che va distribuito per tutte le regioni, chiaramente le regioni che più hanno lavorato verso la 68 prendono più soldini, se la regione Campania fa poco prende poco, poi c'è il fondo regionale dei disabili, quest'altro fondo arrivano con le sanzioni degli enti, allora noi non stiamo chiedendo altro e ogni anno questi due fondi si chiudono, noi non stiamo chiedendo altro per cortesia visto che col fondo 2008 siamo riusciti a far partire 320 borse lavoro che devono essere mirati, io lo dico sempre, si deve creare lavoro vero e no assistenza, abbiamo detto chi sono le aziende e quali sono gli enti formativi, entro il 10 gennaio dovevamo saperlo, l'abbiamo chiamato, telefonato e siamo qua, purtroppo tra due minuti ci chiameranno per dirci che apriranno nel tavolo, potevano farlo prima. Detto questo e poi vogliamo sapere il fondo 2009, sia quello nazionale che quello regionale, visto che il bilancio si è chiuso, quanti soldini ci sono e come li vogliamo spendere? Attenzione, sono soldi diversi dalla Comunità Europea, i fassi, i feste, tutti quelli che si inventano loro, sono fondi prettamente per i disabili. Io ringrazio sempre la televisione, vi ripeto di nuovo, tutti i disabili per cortesia uniamoci, non facciamo pure noi i piccoli ciardini, ciardinilla perché i problemi sono in comune. Io spero solamente che anche questa volta loro ci chiameranno, convocheranno il tavolo e abbiamo fatto un'altra barzelletta stamattina, grazie.